Sono un grande sognatore che dice che l'oggi non vuol diventare domani. L'amore vero è dar da mangiare agli affamati, cercare di consigliare un nostro compagno quando non ha le idee chiare, non giudicarlo ma avvolgerlo dalla nostra amicizia. Vi voglio bene e vi aspetto a Padova il 13 maggio, abbiamo bisogno di voi.